Pur non avendo vinto il concorso teatrale è stata comunque un'esperienza bellissima perché abbiamo avuto modo di anche vedere una tragedia messa in scena da professionisti l'Antigone di Sofocle, una delle tragedie per eccellenza del panorama della grecità sugli stessi gradini di marmo, nello stesso posto è stato quasi commovente quindi pur non avendo portato un successo a casa dal punto di vista agonistico se così si può dire noi lo consideriamo un nostro personale successo perché siamo riusciti a portare qualcosa di fatto qui siamo riusciti a farla vedere anche ad altre persone che non vivono nel nostro stesso ambiente abbiamo fatto il possibile per tirare fuori quello che c'è dentro di noi quello che è stato il nostro impegno durante l'anno tutti i nostri sforzi per avere la migliore riuscita possibile dello spettacolo allora il liceo classico Pitagora è prima che un luogo di istruzione una grande famiglia siamo un gruppo molto unito e oltre a fare le solite cose diciamo da liceo classico quindi studiare il latino e il greco quelle materie che caratterizzano questo indirizzo di studi da quasi 200 anni riusciamo anche a rendere maggiormente il lato umano di queste cose queste materie così antiche, così ricche di storia riusciamo a metterle in scena a renderle vive pur avendo questa età così pesante sulle spalle il liceo classico si occupa anche di progetti giornalistici, progetti musicali e via dicendo quindi noi cerchiamo di dare una connotazione quasi artistica a quelli che sono i nostri studi cerchiamo di renderli il più umani possibile dal latino al greco ma anche alla letteratura italiana, alla filosofia e alla storia grazie grazie grazie